Emilio Messana, ex sindaco di Racalmuto, annuncia con soddisfazione di aver lasciato un comune virtuoso. Io innanzitutto annuncio una bellissima notizia per la nostra città di Racalmuto. La Corte dei Conti ha deliberato la fuoriuscita dal piano di riequilibrio. È un successo storico perché il comune di Racalmuto è il primo comune in Sicilia a superare questa difficile fase. Non era scontato che accadesse così. Molti comuni che hanno scelto la procedura di riequilibrio poi alla fine sono stati costretti a dichiarare il dissesto. Per cui questa decisione della Corte dei Conti premia un lavoro svolto dagli uffici comunali ma soprattutto dà merito ai nostri concittadini di aver affrontato con la compostezza, con il rigore, con la critica e con il sostegno soprattutto questi anni difficili. Quando c'è una crisi è importante che la comunità la affronti e dia tutto per poterla superare. E oggi, tra l'altro la coincidenza della Festa del Monte che è appena terminata sembra non casuale, oggi è una giornata di festa politico-amministrativa, chiamiamola così. Cosa vuol dire per i raclamotesi avere un comune virtuoso? Beh, innanzitutto vuol dire, noi lo possiamo comprendere guardando cosa sono stati questi cinque anni, gli anni diciamo in cui noi abbiamo amministrato. La Commissione straordinaria approvò un piano di riequilibrio. Di riequilibrio che significa? Significa che il nostro bilancio era schiacciato da un eccessivo costo delle spese per il personale, schiacciato da un milione quasi, un milione e quattrocentomila euro di debiti fuori bilancio, per cui rischiava il dissesto. Era già stato ammonito dalla Corte dei Conti. Per cui la Commissione straordinaria approvò un piano per rientrare, per evitare che ci fosse la dichiarazione del dissesto. Il Comune di Racalmuto si è impegnato per cinque anni a fare sacrifici. E questi sacrifici sono consistiti nel non aumentare la spesa per il personale, quindi nel non sostituire il personale che andava in pensione, nel ridurre drasticamente le spese per contributi, per feste. E nonostante questi sacrifici, noi siamo riusciti comunque a innalzare il livello dei servizi sociali, ad avviare una stagione di investimenti importanti che stanno tramite fondi ANAS, chiedendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Possibilità che ci è stata concessa grazie al lavoro che avevamo fatto sul bilancio e sulla regolarità dei conti. Sono state tenute le tasse al massimo, proprio per superare la situazione di crisi, la legge chiedeva che i cittadini pagassero il massimo delle tasse. Quindi il fatto che poi noi abbiamo affrontato questi cinque anni tra i primi comuni in Sicilia, esalta anche il lavoro che è stato fatto dai nostri uffici comunali, in particolare dal ragioniere del Comune, Salvatore Sardo Viscuglia, che ha dovuto coordinare questo lavoro. Spesso accadeva che noi ci confrontavamo con la Corte dei Conti, con i funzionari, con i magistrati e anche loro sperimentavano insieme a noi come concretamente questa procedura dovesse andare avanti. Abbiamo anche noi partecipato, inaugurato un nuovo modello di pensare il ruolo dell'amministratore pubblico. Ricordo i primi sei mesi la Giunta rinunciò all'80% dell'indennità in favore delle casse comunali, altrettanto fecero i consiglieri comunali, mai chiesto un rimborso spese il Sindaco per le missioni anche all'estero. Insomma abbiamo fatto tutto per mostrare, per buttare il cuore oltre l'ostacolo. Oggi si apre una nuova stagione, in questi anni noi siamo riusciti anche a garantire i lavoratori precari, a garantire il numero di ore, proteggendo il bilancio comunale, ad avviare gli investimenti. Oggi si apre una nuova fase, questa fase può vedere finalmente la nuova amministrazione confrontarsi con un'esigenza primaria che è quella di abbassare il carico fiscale delle tasse comunali sui cittadini, che grava sui cittadini, mentre prima era un obbligo di legge tenere le tasse al massimo, oggi è possibile, c'è una discrezionalità amministrativa. L'amministrazione può scegliere se mantenerle o abbassarle. Si può finalmente chiudere la fase della stabilizzazione dei lavoratori precari e riqualificare ulteriormente i servizi sociali. Ecco, si apre una nuova stagione e noi, da Racalmutesi, ci auguriamo di essere tutti all'altezza. Innanzitutto, grazie ancora a tutti quanti, ai nostri concittadini, agli impiegati comunali che hanno cooperato insieme a noi per raggiungere questo risultato. Grazie a tutti.